Probabile stand-by affavara sulle trattative politiche tra sindaco e partiti di maggioranza per la risoluzione della crisi venutasi a creare in seno al Consiglio Comunale. Da oggi, infatti, il primo cittadino, per motivi strettamente personali, dovrà allontanarsi da Palazzo di Città per circa due settimane. Manganella, però, in questi giorni ha incontrato alcuni gruppi politici, ultimo in ordine di tempo, l'MPA. Da indiscrezioni, i quattro consiglieri comunali, Paolo Alaimo, Giovanni Bernardo, Antonio Limbrici e Salvatore Lupo, nel corso della riunione politica, avrebbero ribadito quanto scritto in una nota dello scorso 24 gennaio. Secondo i quattro rappresentanti del Movimento per le Autonomie, a sette mesi e mezzo dall'insediamento dell'Aggiunta, l'operato del vice-sindaco Angelo Messinese non avrebbe soddisfatto i membri del suo stesso partito che vorrebbero le sue dimissioni. Probabilmente, nonostante l'assenza in città del sindaco, i partiti proseguiranno con gli incontri e le discussioni, concertazioni, che potrebbero anche portare ad un cambiamento della geografia politica di Aula Falcone Borsellino. Ancora da definire, infatti, la posizione del consigliere comunale eletto nella lista per Favara, Pasquale Bottone. Quest'ultimo, sconosciuto ufficialmente con una nota stampa dal fondatore del Movimento Politico Locale, potrebbe affiancarsi ad un altro gruppo politico. Scelta che ridimensionerebbe l'assetto politico e potrebbe anche aumentare le pretese di rappresentanza in Giunta sia del probabile gruppo allargato che dei partiti che hanno più alto numero di consiglieri comunali. Ovviamente non è esclusa nemmeno la possibilità che il gruppo dei dissidenti o parte di loro possa sfaldarsi e quindi tornare ad appoggiare in pieno l'amministrazione manganella. Naturalmente le nostre sono solo ipotesi che al momento non trovano conferme. La città necessita di risposte concrete e di un governo forte e coeso che, oltre a trasmettere fiducia ai cittadini, deve anche risolvere i tanti problemi che attanagliano Favara.